Buonasera Sara. Allora, come valutiamo? Anzi, no, innanzitutto, come hai conosciuto Serrone? Allora, ho conosciuto Serrone e le sue accoggiature tramite Facebook. Mi apparivano nella home scorrendo normalmente. Bene. Ho conosciuto così e mi ha incuriosito il suo stile. Benissimo. Senti qua, le comunicazioni per mettervi in contatto sono state esaurienti, celeri? Assolutamente sì. Il referente mi ha contattato di domenica mattina e io ho mandato un messaggio sul suo contatto perché era quello che davano sulla pagina e sono stata contattata immediatamente. Benissimo. Cosa ti aspettavi da questo corso e che cosa ti ha dato? Mi aspettavo di apprendere qualcosa di nuovo. Mi ha dato molto più di quello che mi aspettavo perché non solo ho appreso delle nuove tecniche, tecniche, un nuovo metodo, un nuovo metodo e delle nuove tecniche, ma credo che mi servirà tanto perché mi ha stimolato molto la fantasia. Benissimo. Pensi di ripetere questa esperienza? Assolutamente sì. Benissimo. Bene, io credo che questa tua piccola intervista sia molto valida per fare sempre meglio e per dare sempre meglio a voi un qualcosa di diverso. Questo ringraziamo sempre Serrone che è sempre in continua ricerca per soddisfare le esigenze che oggi per voi parrucchieri sono diventate molto esigenti. Esigenti o no? Assolutamente. Le clienti sono ancora più esigenti di noi perché ormai loro viaggiano con le immagini e quindi noi dobbiamo essere sempre avanti, sempre pronte. Bene, bene. Io ti saluto e vi aspettiamo al prossimo corso. Ok, a dicembre. Ciao ciao.